il più caloroso benvenuto a tutti i presenti in quest'aula di questo bellissimo campus e a chi ci sta seguendo online via zoom questo pomeriggio con questo evento e che stiamo trasmettendo ricordiamo sia in diretta zoom che sul canale youtube dell'ateneo pontificio e sul sito del quotidiano avente nostro media partner per questo evento l'ateneo pontificio regina apostolorum e l'università europea di roma con ur academy lanciano ufficialmente il corso di alta formazione blockchain metaverso nft distributed ledger technologies soluzioni fintech applicazioni pratiche impatti etici e compliance normativa questo corso di alta formazione è rivolto a manager e professionisti e che desiderano approfondire queste tematiche che verranno poi trattate e spiegate dai nostri docenti del del corso che a breve vi presenterò prima però di introdurvi questo i docenti tutti specializzati esperti nel diverse discipline che presenteranno i loro singoli moduli e mi preme evidenziare che questo corso e in questo contesto è un ulteriore step che l'ateneo pontificio regina apostolorum compie su questo tema dopo un percorso sicuramente avviato già da tempo rispondendo ad una serie di esigenze attuali in linea con la propria missione in diverse discipline nel 2021 l'ateneo infatti inteso intraprendere un percorso di analisi sul sviluppo di blockchain nft e criptovalute con un intento però ben preciso ossia quello di creare una cultura etica con spirito cristiano in merito all'utilizzo delle tecnologie a blockchain tra gli obiettivi che si auspica conseguire emerge sicuramente quello di sensibilizzare l'avvio di una fase di studio che possa coinvolgere su queste tematiche contemporanee anche il mondo cattolico investendo più sulla formazione che sull'informazione citando un passo di papa francesco nel 2022 il pontificio l'ateneo pontificio prosegue questo percorso molto interessante e prende vita ufficialmente il lente ovvero il laboratorio etica e nuove tecnologie oggi siamo qui nel 2023 per dar vita a questo nuovo percorso accademico e proporvi questo corso di alta formazione e prima di introdurre però i nostri docenti mi preme evidenziarvi nel ringraziando il a nome dell'ateneo pontificio e a nome del dell'università europea di roma l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di roma che ha riconosciuto e accreditato l'evento sia se seguito in presenza sia in streaming adesso però vi presento il i nostri interlocutori coloro che vi spiegheranno e vi introdurranno a questo corso di alta formazione e ve li presento nell'ordine in cui interverrà e fratelle luiz edoardo rodriguez professore assistente di etica dell'ateneo pontificio regina apostolorum il professor guido trafficante professore associato di politica economica dell'università europea di roma il dottor luca colonio la associate partner kpmg advisory il maggiore carlo della gatta guardia di finanza il dottor mariano carozzi chairman di young platform vi ricordo due brevissime indicazioni diciamo così organizzative cioè il fatto che è possibile al termine di tutti gli interventi porre delle cioè ci sarà la sessione qnei e questo vi consentirà porre delle domande ai nostri interlocutori sia relativamente ai singoli moduli che per quello che riguarda gli aspetti pratici e chi è collegato via zoom potrà scrivere le domande nell'apposita chat chi è presente in aula invece potrà chiedere la parola alzando la mano e poi la cosa che vi chiedo cortesemente a voi speaker di mantenere comunque i tempi prefissati cioè di stare comunque entro i dieci minuti per consentire insomma di concludere e di andare agevolmente uno dopo l'altro con dando lo spazio a tutti i vostri colleghi e a questo punto lascio la parola a luis edoardo rodriguez professore assistente di etica presso l'ateneo pontificio regina apostolorum e al professor guido trafficante professore associato di politica economica per l'appresso l'università europea di roma per la rappresentazione di questo corso e identificando obiettivi e dando degli spunti importanti e utili per l'iscrizione grazie un pomeriggio a tutti io vorrei iniziare ricordando una frase che gesù cristo disse duemila anni fa il sabato è per l'uomo e l'uomo è per il sabato e perché questa frase perché proprio quest'anno a gennaio papa francesco che veniva citato prima e un po prende queste stesse parole e le cambia e ci ricorda che la tecnologia è per l'uomo e non l'uomo per la tecnologia il progresso tecnologico è avanti velocemente 600 mila utenti di internet ogni giorno più di 100 dispositivi nuovi che entrano in contatto con l'internet ogni secondo e cresce ogni volta di più investimento sul big data e le vite più importanti al mondo ogni ogni giorno viene creato 2.5 miliardi di miliardi di bytes e si calcola che negli scorsi due anni abbiamo il 90 per cento della data che abbiamo al mondo quindi questa tecnologia va avanti molto più veloce di solito è il nostro pensiero e il nostro giudizio su di essa e comunque in quello stesso discorso papa francesco ci ricordava che la tecnologia è un male in un pericolo in sé stessa è un dono e soprattutto è un dono che ci ricorda questa meraviglia che dio ci ha dato a ognuno di noi uomini che è l'intelligenza l'intelligenza è la creatività per poter portare avanti questa nostra società la tecnologia ci aiuta sempre a comprendere meglio il valore e la potenzialità dell'intelligenza umana e al tempo stesso ci parla della grande responsabilità che abbiamo nei confronti del creato noi uomini siamo esseri razionali siamo esseri sociali e dobbiamo sempre ricordare che la tecnologia non può soppiantare il contatto umano il virtuale non può sostituire il reale i sociali non possono imporsi sull'ambito sociale la tentazione di preferire il virtuale sul reale è sempre grande e per quello penso che questo diploma sia di molto interesse attuale perché ci permette si permette capire meglio queste nuove tecnologie saperle usare meglio capire il loro ruolo nella società una società che è in costante cambiamento proprio per la tecnologia il mondo dell'economia il business l'educazione stessa e poi pure discernere il modo giusto di procedere nell'ambito legale critico come vedremo etico sociale legale tantissimi ambiti che vengono coinvolti in questo stesso diploma parlando un po da parte dall'ambito filosofico e pure dall'ambito della dottrina sociale della chiesa e ci sembra un'opportunità meravigliosa per poter approfondire queste queste nuove frontiere così come abbiamo penso sempre cercato di fare noi uomini e sempre oggi più che mai possiamo portare avanti questa ricerca va bene tanto non c'è buonasera c'erano delle slide ma farò almeno le slide tanto sono solo delle voglio fare un discorso in generale con qualche riferimento in più alla mia parte dunque è stato già accennato che questo appuntamento di oggi viene dopo un periodo iniziale di riflessione e di analisi con la costituzione del del laboratorio dell'ent e mi ricordo il titolo del primo evento che avevamo svolto era appunto blockchain NFT criptovalute sapremo utilizzarle in modo etico con hashtag siamo siamo pronti quindi una grazie quindi dopo dopo due anni possiamo dire che ci sono ancora tanti tanti punti interrogativi legati a questo a questo a questo fra Luis è un tema che diciamo si interseca in diverse in diversi ambiti no dall'economia alla finanza all'etica alle applicazioni tecnologiche e questo ci ha poi convinto ancora di più andare avanti e a formalizzare eh questa a questo corso di di alta di alta formazione permettetemi di portare una punto di vista personale per lo meno all'inizio cioè da la studio su economia monetaria inizialmente criptovalute erano un fenomeno eh interessante da analizzare perché sembrava appunto una rivoluzione un sistema monetario regolato da da un algoritmo eh che aveva anche poi delle conseguenze dal punto di vista finanziario perché si può pensare di eh accedere a un sistema bancario attraverso uno smartphone come diceva poco fa fra Luis però non bisogna cadere nella tentazione di eh pensare che tutto sia gestito autonomamente da eh dall'intelligenza artificiale o comunque da eh dalla tecnologia eh ma ci vuole eh sempre l'uomo che controlli fino a un certo punto almeno la la tecnologia soprattutto su tematiche molto sensibili come come andrò a eh a discutere in qualche in qualche minuto anche perché riflettendoci eh pur rimanendo nell'ambito delle criptovalute o comunque di questi eh di questi sistemi innovativi di pagamento un elemento fondamentale che deve sempre esserci e che non è differente dai dai sistemi tradizionali è quello della fiducia cioè noi dobbiamo noi dobbiamo fidarci di 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 Nakamoto o comunque di dei miners di qualcuno che c'è dietro questa tecnologia perciò questo è già un primo elemento che ci eh fa capire come l'elemento etico sia fondamentale in questo in questa analisi nell'analizzare queste nuove tecnologie proprio perché la fiducia è un elemento tipicamente umano a e quindi analizzare la tecnologia che è assolutamente una cosa fantastica ci semplifica la vita ci eh migliora la qualità della nostra vita ma soprattutto quando si ha a che fare con tecnologie nuove e così eh fortemente diverse da quelle a cui siamo abituati deve essere anche gestita con una eh certa certa cautela ehm diciamo che la una un aspetto interessante è proprio mettere insieme le nostre forze cioè mettere insieme le forze dell'Ateneo Pontificio Regina Apostoloma e dell'Università Europea di Roma in modo da e quindi questo è un po' il valore aggiunto direi del del nostro corso cioè di ehm analizzare delle queste tematiche dal punto di vista accademico dal punto di vista professionale con interventi di professionisti e manager eh del dei vari settori in cui queste tecnologie si applicano ma anche dal punto di vista dal punto di vista etico queste tecnologie presentano un indubbio vantaggio eh l'ultimo hm l'ultima applicazione mi viene in mente eh è quella relativa a DDL made in Italy ma ci sono anche altri eh settori dove è evidente il vantaggio di usare eh le tecnologie legate alla blockchain come la la finanza il settore il settore pubblico ma ci sono dei rischi e diventa fondamentale perciò sviluppare queste conoscenze dentro un 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 parametro dentro un parametro etico e a questo proposito vorrei citare una ehm un'osservazione fatta da eh Magda Bianco che la eh capo del dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia la quale parlando di queste tecnologie dice c'è anche il rischio che il crescente utilizzo di queste soluzioni tecnologiche porti a nuove esclusioni dai servizi finanziari ad esempio in conseguenza di selezioni distorte da forme di discriminazione anche involontaria generata da modelli non governati in cui non sono note tutte le determinanti che che conducono alla decisione quindi affidare completamente le decisioni pensiamo a temi molto importanti no per eh per il paese come la concessione del credito eh o in generale temi di eh di aspetti legati alla finanza eh considerare l'utilizzo della tecnologia senza avere in mente un parametro etico senza guardare quali sono i dei rischi di questa di questo di questo utilizzo eh di questo eh di questo utilizzo è appunto pericoloso senza togliere ovviamente i grandi vantaggi e la 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 gratitudine dobbiamo avere per avere queste 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 tecnologie perciò nel 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 corso noi vorremmo eh partire da decenni storici e concetti di base legati alla al alla blockchain, alle criptovalute, per poi parlare anche dal punto di vista pratico sia in termini di compliance normativa con interventi specialisti del settore, quindi ambiti diretti di applicazione della tecnologia e ovviamente aspetti etici saranno fondamentali e saranno declinati, ne indico solo tre qui, dal punto di vista della privacy, della finanza e in termini di etica individuale. Io mi fermo qui e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie mille. Dopo questa prima importante panoramica, insomma molto generale che è stata tracciata, è importante introdurre a questo punto il primo modulo. Il primo modulo che prende il titolo di blockchain e applicazioni per il business. Quando si parla di blockchain si evidenzia sempre questo mutamento disruptive che questa tecnologia porta con sé, con delle ripercussioni sia a livello sociale che economico. La blockchain infatti trasforma, secondo me sono i tre diciamo così importanti dati da rilevare, il modo di scambiarsi valore, la gestione delle transazioni e i meccanismi di fiducia. Per cui è fondamentale, oltre che definirne gli aspetti diciamo così tecnici di questa tecnologia, comprendere effettivamente nella realtà quali possono essere le applicazioni per il business. Vediamo questo modulo, questo primo modulo, grazie al dottor Luca Codognola, Associate Partner KPMG Advisory e il suo intervento focalizzerà in particolare l'attenzione sui concetti chiavi portatori, insomma di cui la blockchain è portatrice, integrità e mutabilità del dato e l'importanza dell'essere registro distribuito, ovvero un sistema che non ha bisogno di un'organizzazione centrale di validazione. E accenerà, come vi dicevo prima, quali possono essere le più rilevanti applicazioni della blockchain e il business passando dall'energy fino al public sector. Prego dottore. Sì, l'obiettivo di questa parte del corso, come è stato introdotto, sarà quello di dare una visione pratica di come una tecnologia riesce poi ad aiutare quotidianamente nel business di tutti i giorni le aziende. Il mio obiettivo è quello di altre persone di KPMG che parteciperanno alla docenza del corso, sarà proprio quello di dare questa visione dell'applicabilità di una tecnologia, quindi non di una tecnologia fine a se stessa, ma di una tecnologia che permette alle aziende di aumentare il valore dei propri prodotti, dei propri processi e quindi di portare alla fine un qualcosa di differenziante rispetto ai propri competitor. Questo è il motivo per cui molte aziende stanno guardando il mondo della blockchain, non solo in ambito finanziario. Noi siamo abituati a leggere la blockchain legata alla bitcoin, dove nasce la tecnologia, ma in realtà poi gli ambiti di applicazione sono i più disparati. Cos'è la blockchain? Lo affronteremo sicuramente meglio durante il corso anche con i colleghi della Yank Platform che sono dei grandi esperti della materia. La blockchain la possiamo dire come un registro distribuito, come un notaio virtuale che permette di avere la certezza di quella che è l'informazione che viene registrata, informazione che non può essere più modificata e che quindi resterà nel tempo sempre valida. Quindi ha delle caratteristiche che vanno comprese appieno per poter capire come queste caratteristiche possono essere poi sfruttate nel mondo reale. Quelle che secondo me sono le caratteristiche fondamentali che poi portano le aziende a portare la propria attenzione su queste nuove tecnologie, che sono tecnologie che all'inizio hanno, non mi nascondo, portato a molto diffidenza, sono state approcciate dal mondo reale, soprattutto da quello finanziario, le banche fanno ancora fatica ad accettare questo tipo di tecnologie in molti casi, ma anche aziende di altri settori, vengono viste come un qualcosa di oscuro. L'oscurità nasce dal fatto che non c'è un ente centrale che le governa. Sono tecnologie che si basano su registri distribuiti, quindi l'informazione non è più certificata da un ente governativo o da un ente certificatore dell'informazione, ma viene distribuita su più utenti, su una rete, con i cosiddetti blocchi che vengono combinati come una catena, e quindi si ha una sicurezza della provenienza dell'informazione, della veridicità dell'informazione, che è affidata a degli sconosciuti, il professore è anche questo un passaggio mentale che va in qualche modo superato, ma quello che garantisce da questo punto di vista. La garanzia viene proprio dal fatto che questa informazione è registrata, ripetuta, ridondata da n entità diverse, che possono essere singoli, privati o organizzazioni, e quindi è praticamente impossibile andare a modificare. O meglio, ogni qualvolta l'informazione viene modificata, resta traccia della modifica, si sa chi l'ha modificata e da dove viene l'informazione originale. Quindi questa tracciabilità, questa notarizzazione dell'informazione, sono a nostro avviso gli elementi cardine che permettono poi di utilizzare queste tecnologie realmente nel business tutti i giorni dell'azienda. Come dicevo prima, siamo abituati a leggere della blockchain in ambito finanziario, e soprattutto in quelle che sono le criptovalute, è sicuramente la prima, è l'origine della blockchain, l'applicazione in questi mercati, ma vi assicuro che ce ne sono tanti altri, che poi andremo ad esplorare durante il corso, che hanno pari dignità, perché permettono appunto questo processo di andare a certificare tutta la filiera delle informazioni, pensiamolo solo, tanto per fare un esempio, poi ne vedremo qualcuno, sulla filiera agroalimentare. Io riesco a capire da dove nasce un prodotto, dove viene coltivato un prodotto, tutto il percorso che questo prodotto fa, quindi quando viene raccolto, quando viene magazzinato, quando viene trasportato, da dove a dove, tutto questo semplicemente inquadrando con un QR code, un'erichetta sul pomodoro che trovo al supermercato, che mi dà una garanzia incontrovertibile di quello che è la storia di quel prodotto. Cosa fino ad oggi è inimmaginabile. Ci sono altre applicazioni che avranno bisogno di tanto tempo per prender piede. Noi siamo abituati ad andare dal notaio, questa mattina con un altro partner per fare il registrare un raggruppamento di imprese per una gara. Il notaio è, la blockchain è un notaio, né più né meno. I registri delle imprese, delle start-up, inizialmente si volevano mettere su blockchain, poi non è stato così semplice. Ma questo per dire che più si andrà avanti in attenzione di queste tecnologie, più le applicazioni saranno le più disparate. Portiamo oggi qualche esempio, giusto per farvi capire, quello che poi in qualche modo andremo ad affrontare durante il corso. Ho ipotizzato giusto quattro ambiti di applicazione, in ambito energetico, in ambito consumer industrial market, finanziario e nel public sector. Nell'ambito energetico c'è un'esperienza che ho fatto io in prima persona, dall'atto con KPMG, nell'andare a certificare nelle comunità energetiche, provate un articolo anche sull'albinio di oggi, sulle comunità energetiche che sono, da un punto di vista dell'efficienza e dell'autonomia energetica, uno dei perni fondamentali della transizione energetica. In quel caso abbiamo, insieme al GSE, che è l'ente del governativo italiano, che permette di gestire gli incentivi per innovabili, sperimentato l'utilizzo della blockchain, proprio per andare a tracciare tutti gli scambi di energia all'interno della comunità energetica. Comunità energetica, per chi non lo sapesse, la faccio molto semplice, in un edificio, non è più la villetta unifamiliare, ma c'è un edificio con tanti condomini che condividono il tetto dell'immobile, producono energia, la consumano da di loro, la possono scambiare con le stelle. Quindi il consumo e lo scambio di energia viene tracciato in blockchain, e quindi nessuno può obiettare su quello che è il reale consumo, la reale produzione di quell'energia. E questo, diciamo, nell'ambito etico, tra l'altro, ha una sua rilevanza. Nell'ambito della tracciabilità, già vi ho detto prima, nell'agri-food è assolutamente una tecnologia che sta prendendo piede in modo importante. Come KPMG abbiamo sviluppato anche una piattaforma che permette di gestire tutto questo, ma ce ne sono n, non c'è solo la nostra, ma sono tutte cose che andremo ad esplorare. Altre interessanti applicazioni sono nell'automotive. Alfa Romeo ha lanciato con l'atonale il certificato digitale dell'auto, il prodotto NFT, e quindi un certificato in cui viene digitalmente in blockchain è registrata tutta la storia dell'automobile. Quindi quando l'automobile verrà venduta a un secondo proprietario, non si dovrà più andare in un'officina a capire il chilometraggio, gli interventi che ha fatto l'auto, le cose che le malfunzioni di euro. È tutto registrato in blockchain. Quindi noi sappiamo esattamente la storia da quando è nata, al momento in cui noi acquistiamo quell'automobile, di quel veicolo. In modo, come dicevo prima, incontrovertibile. Altre applicazioni, non vi voglio annoiare, ne vediamo tante durante il corso, ci sono sugli scambi interbancari. Ripeto, il mondo finanziario è quello che forse la vede più come una concorrente la blockchain e quindi quello che più in qualche modo è affascinato, ma allo stesso tempo un po' restio ad adottarla. Ma ci sono degli esempi molto interessanti anche nella pubblica amministrazione. C'è un esempio dell'Estonia in cui è stata fatta una identità digitale che è possibile richiedere anche al di fuori dall'Estonia stessa e tramite questa identità digitale registrata sempre in blockchain è possibile aprire un'impresa praticamente con un lasso di tempo minimo saltando tutti i passaggi burocratici presso gli uffici pubblici dell'Estonia tutto da remoto tramite un'identità digitale registrata in blockchain. Questo per dire che quello che andremo a affrontare durante il corso non sarà focalizzato solo su quello che è un classico del blockchain, quindi il mondo finanziario, ma veramente cercheremo di spaziare con l'aiuto di altri colleghi su tutti quelli che sono gli ambiti di applicazione. Grazie, ed è questo l'aspetto fondamentale per far comprendere la trasversalità di questa tecnologia, far calarla di volta in volta nella quotidianità, perché altrimenti rimarrà sempre comunque un qualcosa di distaccato e di cui non si comprende l'utilizzo e i benefici che questa può portare. Grazie mille. Passiamo al secondo modulo. Il 2023 vede gli organi dell'UE, gli organi legislativi dell'UE, dell'Unione Europea, molto impegnati sia nel disciplinare gli asset virtuali che le tecnologie. Due esempi per tutti, il Cyber Security Act e l'AI Act. Del resto stiamo vivendo, lo ricordiamo, il decennio digitale dell'Europa che guiderà quella famosa trasformazione digitale del nostro continente. E la blockchain in questo contesto? Le criptovalute? Quali sono le regole di questo ecosistema tecnologico che devono essere rispettate? Regole antiriciclaggio, fiscali, finanziarie, autorizzatorie. Ed è su queste premesse che con molto piacere vi introduco il secondo modulo del corso, Compliance Normativa, avrà questo titolo, e lascio la parola all'avvocato Valerio Vallefuoco, founding partner dello studio legale Vallefuoco ed esperto nazionale antiriciclaggio ed anticorruzione nel Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili insieme al maggiore della Guardia di Finanza, Carlo De Lagatta. Prego, grazie. Grazie per, come al solito, per questo invito, per questo ormai consueto appuntamento che da consueto appuntamento è diventato un corso, quindi un gruppo lent, così di, che non era tanto lent, era molto veloce perché effettivamente aveva già, aveva già, lent era lì, laboratorio etico, nuove tecnologie, però ci piaceva e aveva però già capito che c'era necessità di un corso e di una specializzazione su questa materia. Io devo dire che l'accelerazione è stata tale che mi viene da dire facendo, citando appunto una favola di Andersen di re è nudo, cioè è veramente nudo, noi non ce ne siamo accorti, ma è re è nudo, nel senso che c'è una quantità di normative che è entrata in vigore nel 2022-2023 ed entrerà nel 2024 che fare finta di niente è forse quasi anacronistico e allora il re è nudo in un'università vaticana va spiegato, nel senso che la favola di Andersen diceva che il re era talmente diciamo così particolare che chiedeva di essere vestito da dei sarti molto molto bravi, questi sarti per aver paura del giudizio del re si erano inventati una sorta di tessuto invisibile però neanche il re riusciva a guardarsi dallo specchio di questo tessuto invisibile quindi tutti per piageria dicevano ah che bel vestito che bel vestito il bambino lo guarda nella folla e dice il re è nudo questa è allora effettivamente noi stiamo dicendo la parte del nostro corso che è intimamente legata la parte tecnica la parte finanziaria e guardate che le regole ci sono sono molto particolari e molto stringenti sono stanno per entrare in vigore le prime a giugno 2024 e diciamo le ultime a dicembre 2024 abbiamo la cosiddetta MICAR che è il regolamento sulle criptovalute sulle criptoattività abbiamo il regolamento sulla cosiddetta travel rule cioè quella chi conosce la finanza tradizionale è quella che su ogni transazione fatta con la finanza tradizionale c'è il mittente il destinatario l'oggetto della transazione e l'importo e quindi tutta una sorta di richiamo che sarà collegato alle criptoattività le criptovalute abbiamo anche la cosiddetta DAC8 DAC8 che sarebbe Directive Administrative Cooperation che riprende una sorta di scambio automatico di informazioni esteso alle cripto a livello europeo che altro non è che una diciamo normativa di pari passo OX che si chiama CARF che è lo scambio automatico di informazioni tra amministrazione finanziaria esteso alle criptoattività abbiamo le direttive 5 e la prossima 6 che praticamente dedicano uno spazio ampio quello antiriciclaggio della normativa a questi tipi di attività quindi effettivamente pensare che dal prossimo anno poi magari Carlo sulla parte nazionale ci dirà che già in Italia siamo avanti perché effettivamente un po' più avanti degli altri sembrerà strano ma lo siamo e dal prossimo anno a livello europeo non si potrà esercitare questa attività se non con un'autorizzazione rilasciata da un'autorità vigilante non si potrà fare questa attività se non si fanno le segnalazioni fiscali e antiriciclaggio di cooperazione di cooperazione amministrativa quindi di che cosa stiamo parlando cioè tutti quelli che pensavano minimamente che questo mercato fosse così un mercato totalmente liberalizzato beh probabilmente si debbono ricredere si debbono ricredere a livello internazionale ma gli scandali che avete visto sono pazzeschi cioè ci sono dei miliardi di euro di crack e infatti la SEC sta facendo causa a Binance e a Coinbase causa cioè la SEC ha fatto causa al tribunale di New York chiedendo milioni di milioni e centinaia di milioni di euro dicendo Coinbase Binance tu stai facendo una borsa valori quindi tu stai violando la nostra legislazione non stai utilizzando la normativa antiriciclaggio quindi gli americani sono molto pratici quando entrano entrano abbastanza forte hanno lasciato probabilmente pure secondo me troppo fare la surfer adesso hanno cominciato a tirare molto forte e gli europei invece hanno avuto subito un regolamento ma ormai diciamo a livello così bancario finanziario certo che chi vuole fare operazioni con tra valuta fiat e criptoattività deve per forza avere un soggetto autorizzato vigilato eccetera eccetera quindi tutto questo tutto questo sta comportando anche una riflessione dal punto di vista dell'inquadramento fiscale anche in Italia siamo avanti con l'inquadramento fiscale perché con la finanziaria l'ultima finanziaria c'è la possibilità a di fare una sorta di voluntary disclosure delle cripto non dichiarate b c'è un inquadramento fiscale chiaro per cui nel momento in cui riesco a fare dimostrare che sta in dichiarazione e quindi è nel mio quadro RW doppia e ho fatto i pagamenti che devo fare devo dire accessibilissima perché parliamo di un 3,5 sul valore di uno 0,5 sul mancato pagamento del quadro RW addirittura c'è in Italia la possibilità di fare un affrancamento affrancamento delle cripto per cui si paga il 14% in tre rate in tre anni così come si fa l'affrancamento delle quote delle quote sociali o dei terreni e anche qui c'è la possibilità di evitare di pagare il 26% quindi di fatto il legislatore italiano si è mosso poi chiaramente con Carlo avrete anche una breve panoramica su questo io quindi mi limito a dire che sicuramente quello che faremo sarà molto interessante perché creerà secondo me una cultura nuova e soprattutto ci confronteremo su una normativa estremamente dettagliata la MICAR sono oltre 200 pagine 200 pagine fatte con regolamenti europei con le con le definizioni europee quindi tra l'altro accessibile in tante lingue quindi anche molto facile da poter esportare quindi chi si prepara con questo tipo di normativa secondo me si sta preparando per l'Europa e per tanti altri paesi anche extraeuropei quindi per tornare all'obiettivo e alla volontà del nostro corso sarà quella di dare tutti quegli elementi attuali e futuro prossimo che saranno quel treppiedi quello strumento che ci permetterà di arrivare al libro più alto più difficile da capire per noi finisco nel dire che ho fatto diversi convegni anche oggi per esempio ero su Radio 24 abbiamo parlato sul programma 2 di denari proprio sul discorso della regolarizzazione delle criptattività ci sono sempre due anime di quelli liberisti che dicono no ma vedrete che tutte queste regole fanno crollare il mercato eccetera eccetera poi però c'è la valutazione quella dei fondi veri quindi della realtà oggi la notizia è che BlackRock ha chiesto autorizzazione alla SEC di emettere un ETF su Bitcoin BlackRock vuol dire praticamente forse un terzo della finanza mondiale quindi parliamo di miliardi di euro allora pensate solo se BlackRock Goldman Sachs Mary Lynch dovessero investire lo 0,2 o lo 0,3 delle masse amministrate in un mercato di questo genere vedrete che non c'è bisogno del del piccolo riciclatore o del piccolo evasore che investe per far salire il mercato questi mercati saliranno è chiaro e quindi mi ricollego anche a quello che diceva il fratello Rodriguez ci vuole etica perché evidentemente e forse magari il rispetto delle regole è una prima norma etica e finisco nel dire che nell'ultima valutazione che abbiamo fatto blind quasi quasi ce l'abbiamo preso perché adesso lo possiamo dire perché tanto c'è un'inchiesta sull'exchanger quando noi abbiamo fatto un suo tempo come esperimento eravamo in laboratorio abbiamo detto diamoci una griglia facciamo una valutazione e ognuno di noi non lo devo dire vabbè lo dico non lo dico più no ognuno di noi ognuno di noi ha espresso un voto da uno a cinque rispetto a determinate caratteristiche di un grandissimo exchanger uno diciamo dei tre exchanger mondiali e guarda caso questo questo dei tre chiaramente è sotto processo per le valutazioni tra l'altro per le stesse valutazioni che l'entra aveva fatto quindi il diciamo gli artigiani del diritto della tecnologia dell'accademia e dell'università vaticana probabilmente applicando il concetto etico a quello della nuova tecnologia evidentemente non erano tanto lent ma erano molto fast vi ringrazio passo la parola al collega Carlo che sicuramente grazie grazie anzitutto sia all'università europea di Roma sia all'università reggina postolorum per il coinvolgimento della guardia di finanza in questo progetto inizialmente nel progetto di ricerca come diceva prima l'avvocato Alefuoco del laboratorio etico di nuove tecnologie un ringraziamento perché la finalità di questo gruppo di ricerca combacia con quella che è una finalità più operativa istituzionale che è il corpo che è appunto quella di operare salvaguardando la legalità nel mercato dei capitali nella tutela dell'economia un settore così nuovo e così dirompente è ovvio che porti una serie di rischi connessi alle grandi opportunità che la nuova tecnologia come è stato ciclicamente ha portato per il mondo non solo quello finanziario ma proprio la vita quotidiana e quindi la sfida di operare in un contesto legale in un settore così nuovo e particolare che è sottoposto a un cambio normativo e paradigmatico molto molto rapido e molto veloce è anche per noi una sfida che quotidianamente nelle attività istituzionali viene perseguita io mi ricollego in particolare ad alcune cose che diceva prima Valerio che riguardano il nostro stato della regolamentazione in particolare quello che riguarda il legislatore nazionale perché l'Italia è stato il primo paese all'interno dell'Unione Europea a introdurre una specifica normativa sugli operatori che cosiddetti exchanger coloro che prestano servizi di cambio di valuta da valuta virtuale a valuta reale questo è avvenuto nel 2017 prevedendo anche l'istituzione di un registro è stato un primo esperimento ancora prima che le direttive comunitarie imponessero degli obblighi a tutti gli stati membri nel 2019 con la direttiva comunitaria lo stesso obbligo è stato esteso anche ai cosiddetti wallet provider quindi coloro che detengono portafogli di valuta digitale quindi la normativa antiriciclaggio in un certo senso è stata la prima normativa che ha provato a dare delle definizioni in particolare ha dato una prima definizione di che cos'è una valuta virtuale ma anche dei primi presidi di legalità in un sistema che non vede a tutt'oggi iniziative di ampio spettro se non la MICAR che è stata appunto pubblicata solo pochi giorni fa e che comunque entrerà in vigore a partire nella sua completezza a partire dal 2024 quindi anche le modalità di condurre business in un settore così particolare vedevano come dire un gran coinvolgimento e grandi rischi sia per gli operatori di sistema ma soprattutto per i piccoli investitori per il rischio di frodi di truffe un'integrità per il sistema finanziario tradizionale che poteva portare ad un'esposizione troppo alta rispetto a quelle che erano appunto delle attività che ponevano in essere determinate tipologie di operatori e una serie di rischi connessi al trattamento fiscale e al possibile utilizzo di queste attività per finalità diciamo così in lato senso illecite potendo sfruttare quelle che sono le caratteristiche di pseudo-anonimato che contraddistinguono la tecnologia ma in realtà altra cosa da rilevare è che un mondo che lascia anche tante opportunità tante opportunità di crescere di sviluppo e che vedono ovviamente le difficoltà di operare in sicurezza dovendo conoscere una serie di leggi ad esse affine e collegate che sono numerose parlo in particolare non solo delle leggi finanziarie previste dal tuff e dal tube ma anche un profondo una profonda conoscenza di quella che è la normativa civilistica per poter in un certo senso regolare i rapporti e per poter ben inquadrare quando si parla di blockchain quando si parla di token quando si tratta di NFT di che cosa effettivamente qual è il suo strato definitorio che si può fare quindi muoversi all'interno di strumenti giuridici pensati per un sistema e creati entrati nel nostro ordinamento in un tempo in cui non si sapeva neanche della possibilità di poter operare in un mondo con tecnologia criptata ci sono tante opportunità perché comunque vi sono anche delle normative in cui provano a come dire a supportare queste nuove questi nuovi business in particolare mi riferisco alle normative sulle start up innovative che sono di supporto per gli operatori di sistema e ad affinità con altri comparti in particolare con quello dell'arte che anch'esso è sottoposto per quanto riguarda gli aspetti tradizionali al comparto degli obbligo antiriciclaggio ma che comunque vede comunque una sfida costante e continua appunto alla luce di quello che potrebbe essere il nuovo quadro il nuovo scenario così come delineato dalle autorità europee che potrebbe essere declinato a livello dei singoli stati in maniera anche più dettagliata io vi ringrazio e lascio la parola mi preme evidenziare che questo importantissimo escursus che voi avete fatto naturalmente poi avrà un approfondimento un'elaborazione ben precisa quindi è veramente un modulo assurdamente contemporaneo importantissimo che prepara i professionisti insomma da qui al prossimo anno in cui si concluderà poi il master e darà veramente tutti gli utensili per poter poi operare nel campo grazie mille abbiamo parlato di compliance normativa e di regole abbiamo individuato abbiamo visto le applicazioni nel business che saranno oggetto di approfondimento nei vari moduli ma per avere una visione completa di ogni tecnologia è necessario comunque avere quindi anche naturalmente della blockchain è necessario per comprenderne a fondo le potenzialità e i limiti conoscerne i suoi aspetti tecnici e la sua architettura e il suo funzionamento e questi aspetti verranno trattati nel corso del terzo modulo intitolato dalla teoria alla pratica che verrà introdotto dal dottor Mariano Carozzi chairman di Young Platform grazie grazie a tutti io sono molto contento di questo invito e mi sono trovato subito a mio agio recoletto oggi su avvenire l'articolo introduttivo a questo corso e la fase che più mi ha colpito è una fase che uso spessissimo non stiamo parlando del futuro stiamo parlando del presente perché uno dei grandi falsi miti è che queste cose più o più capiteranno e ci cambieranno la vita Young Platform è una società giovane ma ha comunque cinque anni è una società giovane nei suoi fondatori che hanno 25 anni ma ne avevano 20 quando sono partiti e sono partiti dall'intuizione che c'era un nuovo modo di vivere l'economia e di spiegare l'economia ai loro coetanei passare a gestire una società è stata una cosa difficile e qui hanno fatto una scelta di farsi affiancare da persone esperte che vedevano in questo settore un futuro allora stiamo parlando di cinque anni fa interessante il primo dato infatti che io vorrei sottolineare e che mi stupisce oltre all'attualità del tema immanente che mi preoccupa anche perché vedo nel mondo bancario e finanziario meno attenzione di quella che mi aspetterei è il fatto che nonostante in Europa abbiamo cambiato le nostre valute con un'unica valuta un vero dibattito sul significato della moneta comunità di conto come mezzo di pagamento e come riserva di valore non è capitato con l'euro è capitato con il bitcoin e l'euro era in tutti i portafogli bitcoin cinque anni fa era nei portafogli di pochi quindi è stato naturale quando siamo partiti avere una forte connotazione formativa noi non siamo una piattaforma che vi invita a giocare in borsa noi siamo una piattaforma che cerca di aprire una porta su un nuovo mondo abbiamo più di 10.000 contenuti formativi perché spesso questo approccio con il bitcoin è il primo approccio con qualcosa di economico di persone estremamente giovani e questo approccio lo facciamo in maniera progressiva con delle ottiche di si chiama gamification cerco di usare il meno possibile l'inglese ma non c'è quella traduzione attraverso una piattaforma che si chiama STEP che insegna i concetti principali cioè insegna cosa vuol dire creare una moneta minarla come si guadagnano i primi young camminando come si guadagnano poi i primi young imparando contenuti rispondendo giusto le domande cioè è un percorso che porta al momento in cui vedi l'aspetto monetario delle cripto in alla fine di un percorso non all'inizio non cominciamo a giocare con qualcosa no cerchiamo di capire un nuovo mondo che è un nuovo mondo dell'economia fortemente decentralizzata perché è un bene che l'economia soffia fortemente decentralizzata perché le cripto sono definite da alcuni anche le monete di internet ecco la storia di internet negli ultimi vent'anni ci porta una grandissima centralizzazione principalmente dei nostri dati la decentralizzazione quindi la possibilità di non subire censure pensiamo di non subire taglieggiamenti parlavo poco prima dei costi incredibili delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo questi costi non esistono nel momento in cui questa transazione venisse fatta sulla rete non dico bitcoin perché c'è un rischio di volatilità ma se usiamo ripple o tether o usdc questo rischio di totalità non c'è ecco le cripto sono tante cose noi cercheremo innanzitutto di spiegarvi che sono tante cose che sono diverse dalla moneta elettronica perché c'è una gradualità e cercheremo di portarvi a quella che è la nostra visione di un mondo in cui il wallet il nostro portafoglio sarà pieno di monete diverse che non sono le monete del viaggiatore il dollaro la sterlina o quant'altro ma sono le monete dei diversi momenti della nostra giornata perché le cripto sono andattissime a remunerare il nostro mondo il mondo a cui ci avviciniamo parleremo quindi dei protocolli che permettono di dare dei vantaggi alle persone che si impegnano in qualche cosa perché siamo in un mondo che non ci paga per lavorare tutti noi abbiamo lavorato per insegnare all'intelligenza artificiale con una serie di dati abbiamo tutti per passioni siamo incuriositi abbiamo lavorato però ve ne hai e non abbiamo uscito niente in cambio un sacco di ragazzini adottano dei tecnici di play to earn cioè giocano e vengono remunerati perché testano i giochi questo è un pochino il futuro quindi le cripto ci sono già ma una serie di possibilità ampissime che ci possono aprire strutturi diversi non dobbiamo vederne solo l'aspetto finanziario dobbiamo vedere l'aspetto industriale dobbiamo vedere l'aspetto tecnologico e dobbiamo anche vedere l'aspetto delle regole perché noi siamo una società operativa siamo un SPA operiamo in un contesto in cui i primi tempi la nostra proposta di valore era la compliance come fattore distintivo perché perché la compliance è un elemento che ti obbliga a forzarti a cercare la strada più difficile la strada più facile è dire noi siamo alternativi noi siamo alternativi ma la radice delle regole ha un suo perché noi abbiamo un regolamento etico che a un certo punto dice anche se la regola non va bene perché il nostro mondo cambia paradigmi applichiamo la regola e ci dichiariamo contrario a questa regola questa è un'obiezione che secondo me è molto forte che ha il suo perché e ha il suo perché quando sei in un settore di confine non è per me la prima volta in cui sono in un settore di confine io ricordo il 3D online il 3D online ha aperto nuove strade nessuna casalinga di Bogher è diventata trader di sale mercati ma il costo della gestione del risparmio dell'investimento per le persone normali è sceso in maniera enorme l'e-commerce nessuno è diventato un venditore di massa nessuno è diventato Amazon ma io mi ricordo il macellaio di Cuneo che aveva il problema che non gli dava l'autorizzazione perché non aveva un negozio vero per essere un macellaio per poter vendere la carne sull'e-commerce dove avere un negozio con una vetrina era un momento in cui la normativa ha dovuto adeguarsi siamo quindi in questa tensione non bisogna non rispettare la normativa la normativa che arriva è una guida la normativa che arriva è un modo per arrivare a un mercato di massa la normativa che arriva è un modo per standardizzare le proposte di mercato e secondo me a questo si arriva spero che sia un risultato del corso del che potranno seguire i professionisti i manager che si vedono in un'ottica aziendale sarà un modo di applicare questi nuovi paradigmi alle concrete attività professionali e questo avviene tramite un confronto un confronto io non sono un ingegnere ma sono obbligato a sapere qualcosa di tecnologia come penso oggi tutti quanti siamo obbligati a sapere qualcosa di tecnologia anche soltanto per avere un know-how un sapere come si gestiscono le password anche se non avesse nessun altro vantaggio questa tecnologia sta insegnando a milioni di ragazzi che bisogna essere responsabili perché non c'è nessuno che ti salva in ultima istanza mi raccontavo una mamma che lei non se ne è mai interessata fino a che hanno rubato l'identità dei suoi figli su Roblox a quel punto la mamma avvocato si è caduto di capire cos'è Roblox Roblox è un metaverso centralizzato su cui i miei figli più piccoli passano la loro giornata molte ore contingentate dallo studio da un po' di attività fisica da mangiare da dormire ma molte ore come per noi era pervasiva la televisione ecco dare gli strumenti culturali a tutti quelli che lavorano intorno a queste cose e cominciare a capire che ci sono e sono cose molto delicate e anche noi abbiamo bisogno di filosofi non solo di ingegneri e di avvocati per capire il retrostante di questa tecnologia tanti obiettivi non riusciremo a farli tutti ma cercheremo in queste numerose lezioni che ci avete assegnato io vengo da Piemonte siamo tutti Piemonte abbiamo negoziato un po' qualche volta veniamo qualche volta saremo in video cercheremo di dare una curiosità non daremo delle risposte ma daremo qualche strumento e delle curiosità speriamo alle persone che ci daranno invece dei riscontri dei loro saperi portati nel nostro mondo grazie grazie mille a proposito della corposità del programma invito chi già non l'ha fatto nell'approcciare insomma l'iscrezione a verificare il programma che è veramente molto molto denso molto particolare e lo trovate sul sito dell'OER Academy o comunque linkando direttamente dal sito dell'Ateneo Pontificio o da quello dell'Università Europea di Roma ed è molto 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 interessante vi ricordo che l'inizio è fissato per il 13 ottobre la durata è di 100 ore più 50 ore di project work e potete trovare veramente tutti i dettagli che possono interessarvi e anche il discorso del project work il test per la verifica delle competenze insomma veramente articolato in maniera ottimale per approfondire tutte queste tematiche non so se in sala ci sono delle richieste delle domande altrimenti vista l'ora mi accingerei a chiudere perfetto allora giungiamo alla conclusione di questo evento che ha visto appunto la presentazione del nuovo corso di alta formazione blockchain metaverso nft distribuite leggi a technology soluzioni fintech applicazioni pratiche impatti etici e compliance normativa e mi concedo soltanto una come dire una considerazione di chiusura dopo questa ora trascorsa in vostra compagnia il 2023 è l'anno europeo delle competenze e cosa vuol dire questo vuol dire puntare sulla riqualificazione e sull'aggiornamento perché ognuno di noi possa effettivamente ottenere le competenze giuste per posti di lavoro di qualità l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società indica che in Europa 4 adulti su 10 e una persona attiva su 3 non dispongono delle competenze digitali di base i lavoratori qualificati sicuramente potranno ottenere migliori opportunità di lavoro nel momento in cui partecipano attivamente alla società e questo per consentire oggettivamente una transizione verde digitale soprattutto in una società equa e giusta e reputo proprio che questo corso di alta formazione possa essere che come vi ricordo prende avvio come già vi ho detto il 13 ottobre in forma alla weekend sia un importante contributo per il raggiungimento degli obiettivi di questo fissati dall'Europa che sollecitano gli erogatori di istruzione e formazione così come insomma possono essere l'Ateneo Pontificio e l'Università Europea di Roma a intensificare e migliorare lo sviluppo delle competenze sul campo detto questo non posso altro che prego prego penso ci siano delle domande ok posso aggiungere una ci mancherebbe certo ragionavo mentre parlavamo ognuno presentava la prima parte di corso secondo me un vero valore di questo corso sento di condividere con tutti e non è un corso nato a tavolino dicendo vogliamo fare un corso sulla blockchain come possiamo organizzare un corso sulla blockchain ma nasce da un gruppo di lavoro che fatto di professionisti professionisti accademico studi legali guardia di finanza aziende più dicendo che si siano messi intorno a un tavolo per ragionare sull'argomento ma spinti dalla passione non spinti dalla necessità di organizzare un corso e lo stadio finale di questi ragionamenti di questi approfondimenti è stato la strutturazione di un corso questo penso che sia veramente un valore aggiunto per chi lo frequenterà perché non saranno moduli a tenuta stagna ma saranno moduli che nascono da ragionamento coordinato e complessivo sulla tematica questo mi sembrava corretto condividerlo perché abbiamo passato un paio di anni insieme in tarde serate in cena in cui abbiamo costituito questo assolutamente e peraltro la voglia è anche quella di formare delle persone che poi anche alla fine del corso possono anche collaborare con noi perché poi la verità è che su questo terreno e su questo mercato non ci sono persone formate è anche vero che ci stiamo formando perché le normative sono state emanate o comunque le regole sono state emanate ore però pensate ad esempio in uno studio legale dove c'è bisogno di tutto un dipartimento di crypto tax lawyer dove c'è bisogno di un'assistenza regolatoria per il soggetto che deve prendere l'autorizzazione per valutare a livello di compliance o anche a livello etico perché poi questo si unisce anche col famoso ESG perché da una parte ESG c'è anche la governance e anche la compliance quindi di fatto l'opportunità è enorme è enorme anche rispetto alle esperienze che abbiamo avuto nel passato nel passato noi ci ricordiamo con l'esplosione di internet ci sono state delle società che sono esplose e sono diventate forse too big not too big too fail ma too big e basta nel senso che addirittura sono più importanti delle banche più importanti delle nazioni sono esplose ecco alcuni sono esplose con la bolla però ecco abbiamo una grandissima opportunità che è quella che probabilmente il forse anche la riflessione post pandemica che ha fatto vedere anche un po' tutti a vedere cosa c'erano nei contenuti che cosa girava probabilmente questo farà sì che i legislatori sono ormai abbastanza pronti e quindi non ci sarà quella diciamo quella prateria dove texana dove si poteva correre e fare diciamo anche delle esperienze non piacevoli secondo me il controllo anche a livello internazionale la regolamentazione anche a livello internazionale è tale che ci dà la possibilità di poter formare delle persone consapevoli e poter esportare questo sapere perché chiaramente ci sforziamo di non parlare in inglese ma ahimè è tutta tecnologia piena di acronimi inglesi e quindi ci dobbiamo accettare questa diciamo con 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 buon senso l'utilizzo di questi economi e ci però che ci darà la possibilità anche di esportare il nostro sapere io ho piacere che per esempio mia figlia o mio figlio che sono in età di università possano poter pensare di approcciare a certe materie in maniera ehm così eh complementare e multidisciplinare per poi di potere a fare anche delle esperienze delle partnership estere dell'esperienza all'estero che ci saranno perché molti paesi e molte molti paesi europei stanno pensando a questo mercato se posso è talmente vero quello che è stato detto da dottor Cognola un minuto fa che il tema della cos'è la moneta e quindi questo quesito a seguito della nascita delle criptovalute della tecnologia blockchain è venuto a chi studia economia monetaria le banche centrali la politica monetaria in genere e anche come testimoniava il dottor Carozzi di Young Platform anche in un settore completamente diverso anche loro partendo da esigenze di educazione finanziaria e di industria sono trovati a affrontare questa domanda quindi questo per confermare che soprattutto di fronte a queste tematiche così complesse un approccio interdisciplinare è un approccio secondo me che vale la pena seguire grazie mille c'erano le due domande una amministrativa diciamo così questa è stata già data risposta appunto dalla segreteria per quella un pochino più tecnica mi riservo visto che non abbiamo più tempo a nostra disposizione di rigirarvela in maniera tale che poi possiate rispondere insomma privatamente a chi ce l'ha posta ce n'è un'altra requisiti di ammissione ditemi voi potete rispondere direttamente come avete fatto prima perfetto benissimo grazie mille allora come vi dicevo ringrazio tutti quanti voi per e tutti chi ha assistito appunto a questo evento in aula e online a fratello Luisa Edoardo Rodriguez dell'Ateneo Pontificio Regina Postolorum il professor Guido Trappicante Università Europea di Roma Luca Cologno la KPMG avvocato Valerio Vallefuoco studio legale Vallefuoco il maggiore della guardia di finanza Carlo della Gatta il dottor Mariano Carozzi di IAM Platform e l'attestata avvenire che ci ha seguito fino a questo momento nostro media partner un grazie personale all'Ateneo Pontificio Regina Postolorum e all'Università Europea di Roma e un buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie mille grazie mille grazie mille